tanti like per capo bassone aga gaga gaga cari amici cari bambocci ma soprattutto care sorelline in calore come va spero tutto bene auguri di un felice natale bambocci bambocci auguri buone feste mi raccomando non ingozzatevi come degli animali mangiate poco mangiate sano mangiate il pesce che buono i gamberoni le mazzancolle il salmone le lasagne ma mi raccomando in quantità contenute non fate gli animali allora siamo qua e vi do il benvenuto in questo video natalizio non solo per farvi gli auguri ma soprattutto per mostrarvi le mie ultime novità allora voi avete visto qui che c'è un diamante rosso questo è il simbolo dello scioppone e sì ebbene sì lo ammetto per la prima volta in vita mia dopo 80 e passa video ho scioppato per la prima volta su un giochino ho scioppato non avevo mai scioppato su giochi nell xbox nel pc mai questo è il primo gioco che mi fa aprire il portafoglio chiaramente stiamo parlando di cifre irrisorie 15 euro e ve lo faccio vedere perché se no alcuni rompono i coglioni mi dicono oh ma sei andato a comprare 109 euro sto cazzo vedete che c'è ancora il primo bollino col cazzo queste sono rapine a mano armata questa sezione ve la dovete dimenticare questa è una rapina perché qui ti danno 50.000 gemme a 109 euro ma se voi fate il fondo della crescita che qui non c'è più vedete perché l'ho fatto il fondo della crescita con 16 euro invece di darvene 50 ve ne dà 81.000 al prezzo di 16 euro quindi qua potete vedere come questa sia una truffa mano armata quindi ho preso quella e mi sono fatto un bel po di gemmine mi sono fatto un po di gemmine per poter portare il mio fottuto e merdosissimo castello al livello 25 perché è una cosa impossibile altrimenti da gestire ve lo faccio vedere ora siamo a livello 17 no vedete il mio è molto indietro perché io non ho mai utilizzato le gemme sul castello quindi sono rimasto a livello 17 se io volessi passare al 18 passando dal 17 al 18 avrei bisogno di 900 libri guardate quanti me ne mancano 725 che sono acquistabili tramite 7250 gemme perché ricordiamo che un libro vale 10 gemme non un libro una gemma che già sarebbe abbastanza abbordabile ma un libro 10 gemme quindi ogni libro ti costa 10 volte in gemme allora e questo ovviamente è necessario per passare perché altrimenti le t5 ve le potete pure scordare siccome adesso mi è venuta voglia di fare le t5 ho deciso di puntare un po sul castello perché è questo è l'ostacolo insormontabile dove molti si fermano perché dicono eh vabbè ma allora come cazzo faccio beh ragazzi parliamoci molto chiaramente voglio essere onesto con voi se non avete voglia di shoppare almeno il fondo per la crescita scordatevi le t5 perché serve necessariamente almeno guardate ho fatto il calcolo io l'altro giorno e vi faccio un esempio solamente per farvi capire io ora sono a livello 17 non è che sono a un livello diciamo 5 6 sono a livello 17 e ho fatto il calcolo che per arrivare al livello 25 ho bisogno di 177 mila gemme solamente per il castello 177 mila gemme quindi avete capito che farlo solo tramite i libri è impossibile anche perché le fortezze nemiche come vi ho detto come sapete già anche voi non sempre sganciano i libri quindi serve chiaramente almeno il fondo per la crescita almeno quello allora andiamo avanti con la spiegazione e per quanto riguarda il castello avete capito che servono molte gemme ora per quanto riguarda il livello costruttivo delle strutture siamo messi benissimo perché mi manca la caserma da far passare dal 24 al 25 tra 5 giorni 23 ore 33 minuti e 50 secondi precisi sarà a livello 25 una volta terminata questa facciamo tramite 2000 gemme della cornucopia chiaramente l'officina d'assedio al 25 anche qui serviranno 15 16 giorni ma grazie alla runa e all'aiuto degli alleati più o meno sui 12 13 giorni e ce la caviamo quindi un'altra settimana e mezzo e ce la caviamo finito pure questa e c'è da fare il castello però il castello come vi ho detto bisogna spendere gemme e quindi cosa ho pensato lo faccio con more than gems cioè più che gemme quando esce l'evento tanto è uscito qualche settimana fa adesso a gennaio dovrebbe tornare l'evento dispendo praticamente un sacco di gemme tutte qui 25 un giorno 25 l'altro e poi mi faccio almeno un po di teste anche perché come potete vedere potenziarlo costa veramente poco in termini di tempo anche di risorse come vi ho detto però un giorno e 7 ore insomma me lo velocizzo e via sto mettendo già via i velocizzatori quindi non c'è problema e poi chiaramente una volta portato al 25 finalmente posso fare sia l'ospedale sia ovviamente l'accademia sia il magazzino e poi la torre di vedetta finalmente quindi queste cose qui poi sono le ultime ma sono cazzate in termini di risorse e di tempo sono cazzate gli ospedali più che altro mi fotteranno un sacco di risorse ma non c'è problema ce le ho però sarà comunque l'ostacolo principale sarà questo perché poi c'è tutta una serie di scoperte scientifiche da fare questo lo sapete già che richiedono tanto tempo ma qui si parla solo di tempo mentre il castello è dura perché mentre noi nella ricerca scientifica economica siamo messi molto bene infatti qui è stato fatto tutto fino al 5 fino al 10 fino a qui abbiamo completato tutto da qui in poi mi mancano gli ultimi livelli vedete che siamo 9 9 9 perché ovviamente serve l'accademia al 25 vedete anche sul macchinario serve sì quelle di prima le altre due però anche l'accademia e poi mi mancano gli ultimi due livelli di carro e taglio di lucidatura per arrivare al 9 mentre poi l'ultimo sicuramente richiederà chiaramente la l'accademia al 25 però questa è tutta roba che si fa in pochi giorni una settimana quattro giorni sono robe veloci no capito qua non c'ho il tempo quindi non ti so dire però qui si fa in giro di due tre settimane massimo lo facciamo poi parlando del della scoperta scientifica in fatto di militare qui invece è un altro paio di cazzi perché perché richiede veramente tanto tempo prima di tutto richiedono queste tre al 10 ok vedete queste tre al 10 che ovviamente portano via solamente passare dall'otto al 9 53 giorni non vi lascio neanche immaginare cosa vuol dire dal 9 al 10 però vabbè facciamo questo percorso tanto siamo tutti siamo tutti all'otto mancano due scatti poi bisogna fare cartografia anche qui non so quanto richiederà però bisogna avere queste tre precedenti e quindi sono cose necessarie poi bisogna fare a seconda del dell'unità militare che vogliamo sbloccare in questo caso io punto sul mammelucco d'elite bisognerà fare l'accademia chiaramente poi il corpo medico al 10 la blindatura al 10 allora il corpo medico già ci sta però vedete che richiede il campeggio allora andiamo sul campeggio il campeggio richiede cartografia è tutto collegato bisognerà fare 1 2 3 4 5 6 7 8 queste 8 ricerche scientifiche bisogna farle per avere solamente il cavallo però vi faccio vi faccio un attimo ragionare sui tempi i tempi sono molto lunghi è vero però prima si inizia e prima si fotte capito quindi cercate di capire che prima si inizia e prima si fotte perché altrimenti se non partite subito non non ce la fate bisogna subito partire iniziare subito con con la situazione bisogna essere lucidi sull'obiettivo perché è vero che quando voi shoppate no adesso io ho un bel po di migliaia di gemme e posso iniziare a comprarmi tutte le cagatine no ad esempio vado qui no in decorativo oh wow mi prendo il candelabro però sono 100 uh il lampione moderno ma sono 1000 capito uh mi prendo il lampione antico sono 1000 uh mi faccio la strada d'oro sono 100 gemme al pezzo cioè non bisogna buttare via ste cose qua poi ovviamente ci sono tutte queste che sono quelle prese poi ci sono queste ah voglio la statua di pegaso ah voglio il drago voglio la fontana sono tutte 1000 2000 che vanno via quindi non bisogna perdere tempo con queste cose capito bisogna essere lucidi e stare sull'obiettivo perché le gemme è l'elemento più difficoltoso da recuperare molto difficile adesso avete visto che con i barbari che non ne sganciano più è ancora più difficile di prima che già era complesso però vi ripeto questo concetto se voi volete giocare seriamente se volete arrivare alle t5 ragazzi almeno il fondo della crescita lo dovete prendere dovete shoppare 16 euro quello perché veramente vi ho fatto il conto prima sono 177 mila gemme io che sono a livello 17 me ne richiede solamente per questo scherzetto senza considerare le 2000 per ogni struttura solamente questo 177 mila adesso che ne ho circa 100 mila già sono a buon punto 77 mila si possono anche recuperare un po' grattando di qui grattando di là un po' di barbari casualmente un po' di eventi ce la possiamo fare però se dovete farne 177 mila da zero partendo da zero e beh lì ragazzi lì è lunga lì sono sono anni e anni se non decenni di gioco e veramente non vi conviene anche perché poi dopo le gemme le usate per gli eventi giustamente per le ruote si sprecano molto per le ruote e quindi ragazzi cercate di capire che se volete arrivare alle t5 dovete prendere il fondo per la crescita e non sprecarlo bisogna buttarlo ovviamente sul castello e molti molti sai mi consigliano punta al vip però ragazzi io questo vip voglio aprire una piccola parentesi il vip io sto crescendo già benissimo sono già a livello 10 e ho una testa no se io investissi adesso magari fai finta 48 mila gemme per arrivare all'11 all'11 avrei ancora migliaia di gemme da investire in punti quindi butterei tutto le cose che potevo mettere nel castello per cosa per avere cosa il cazzo di niente perché vedete dal livello 10 al livello 11 non cambia nulla cambiano che queste qui mi danno uno un elemento in più di queste qui guardate vedete la testa d'oro è una e la chiave d'oro è una se noi torniamo al vip 10 come potete vedere è uguale testa una chiave d'oro una mentre queste sono una unità in meno quindi un'unità in meno di oro ma sono cazzate sono cazzate allora caso contrario sarebbe se passassi a due teste allora sì che magari investirei ma così no così preferisco aspettare un po' di più e poi avere due teste al giorno ma avere già la storia del castello sistemata perché secondo me il problema è il castello il castello è quello l'ostacolo veramente pesante perché arrivare al vip io ci sono arrivato ragazzi senza sborsare un centesimo di gemma niente io al vip 10 ci sono arrivato perché la gente comprava i pacchetti mi ritrovavo 2000 di esperienza vip alla volta 500 di vip quindi piano piano qui la si fa la si fa piano piano gente che compra i pacchetti ti danno 500 esperienza 10 di esperienza 50 piano piano si sale non è un problema il castello che è un problema se vi arenate è un problema perché sì tu puoi continuare a fare i forti barbari ma i forti barbari come vi ho fatto vedere non sempre sganciano adesso stiamo facendo un forte barbaro al costo di 140 attack points che non so neanche se mi darà il libro io ho mandato l'oar ma non so neanche se mi daranno i libri quindi io li sto facendo qualcosa ho guadagnato e ho risparmiato di gemme però è ancora lunga ragazzi questo è un ostacolo che io vi consiglio se volete giocare seriamente di affrontare subito perché almeno ve lo togliete dalle palle perché il castello è veramente una cosa che per arrivare alle t5 vi spaccherà i coglioni quindi ricapitolando se volete arrivare bisogna comprare il fondo per la crescita sono 16 euro e almeno vi fate più o meno 81.000 gemme unite le gemme a quelle che già avete arriverete a 100.000 più o meno e già arrivare da 100.000 a 177.000 è un conto arrivare da 0 o da 1000 o 2000 come ce l'avete voi nel conto a 177.000 capite che è un altro paio di cazzi quindi io vi consiglio caldamente di investire tutte le gemme che avete nel castello perché il VIP potete crescere lo stesso ed è vero ed è importante il VIP per carità perché la testa d'oro vi cambia la vita però ragazzi il castello poi è dura se non avete gemme perché questo vi costringe poi a riscioppare di nuovo capito qual è il problema mentre se arrivate almeno al VIP 10 siete a posto perché una volta arrivati al VIP 10 almeno una testa d'oro ce l'avete certo non è come averne due perché è molto meglio due però ragazzi credetemi il castello è qualcosa di pesante è meglio se investite le gemme del fondo per la crescita nel castello fidatevi poi fate quello che volete ognuno qui deve prendere la propria strada la propria scelta c'è chi investe sul VIP 12 c'è chi investe sul VIP 11 c'è chi investe sul 10 e c'è chi investe sul castello io personalmente ho fatto due calcoli e mi sono reso conto che è molto meglio investire il VIP chiaramente deve arrivare al 10 il prima possibile su questo è chiaro però mi sono reso conto che il fardello del castello è molto meglio affrontarlo subito perché almeno intanto macinate macinate truppe fate cose però non rimanete indietro poi quando c'è da giocare con le T5 perché i comandanti sono importanti e fanno la differenza però le T5 fidatevi che vi salveranno il culo in bel po' di un bel po' di situazioni fidatevi soprattutto quando la gente vi vorrà fare i rally e vedrà le T5 un attimino si metterà al proprio posto capito anche avere un gran numero di truppe scoraggia l'avversario a romperti i coglioni quindi ragazzi io vi consiglio questo poi ognuno valuta a seconda del vostro tempo del portafoglio e di tutto la strada per le T5 è iniziata oggi mi ci dedicherò avrò massima concentrazione sull'arrivare alle T5 nel prima possibile nel minor tempo possibile e poi vi farò sapere gli ultimi aggiornamenti nel prossimo video tanti auguri ancora viva la figa e noi ci becchiamo tutte le sere dalle ore 21 e 30 in diretta live su twitch al sito superiore capobastone official e il 31 dicembre farò il mio discorso all'umanità sempre su twitch alle ore 21 circa quindi tenete il mio canale sott'occhio iscrivetevi e soprattutto sfrusciate la carta dello zio peppe saluti 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 tanti like per capobastone aga gagaga